Ciao Frambo, presentati e cerca di descriverti attraverso tre artisti che ti hanno reso chi sei oggi musicalmente parlando. Sono Frambo, ho 18 anni, vengo da Arezzo in Toscana e vengo da un background familiare molto musicale, se si può dire, perché mio padre ha fatto il DJ per tutta la vita, mio zio ha fatto fa e ha fatto il cantante anche lui per tutta la vita, quindi ho sempre avuto la musica in casa e in testa e soltanto negli ultimi due anni ho iniziato a produrre, quindi ho macinato musica per tutta la vita praticamente, da quando ero piccolissimo ad adesso con tantissime influenze diverse, quindi nulla si è creato un groviglio di cose nella mia testa e nulla. Tre artisti invece ti dico Fra Quintale, Calcutta e Francesco Deleo. Che cosa significa fare musica per te? Allora, fare musica penso sia la cosa più importante perché è uno sfogo, è un bisogno repellente e molto importante e che sta diventando piano piano sempre più importante nella mia vita, sempre di più e sempre più routine e lo amo alla follia. A cosa ti riferisci con Guerra nel brano con cui ti sei fatto conoscere al pubblico? Allora, Guerra è un sputarsi in faccia e spararsi in faccia tantissime cose che si sono sempre volute dire e che non si sono mai dette e quindi stai sempre un po' con il rimorso, però arriva sempre quel giorno in cui finalmente le sputi e le dici e la sera che ho scritto questo pezzo mi ricordo che stavo un po' una merda, però ho deciso di fare questa cosa un po' simpatica che mi faceva anche un po' ridere, di spiattellare queste cose mezze nostalgiche che mi uscivano dalla testa senza pensarci due volte, infatti il testo l'ho scritto in mezz'ora forse, senza pensarci però spiattellandola su una base molto allegra, molto movimentata e la cosa mi piaceva, sentivo che funzionava e funziona, quindi nulla, è nata a guerra. Poi c'è stato il grande lavoro di Leo della clinica che ci ha messo la sua manina magica ed è esplosa. Qual è stato l'evento che ti ha portato a modificare la visione di fare musica solo per gioco ad un impegno più serio nella tua vita? Sicuramente l'incontro con Clinica, con Clinica Dischi, forse le persone più serie che ho attualmente nella mia vita e è stato molto figo, è stato molto figo e è stato soprattutto stimolante conoscere tutte queste persone e nel giro di così poco tempo soprattutto. E poi effettivamente sì, la musica ha smesso di diventare un gioco anche forse un po' prima, in realtà io ho iniziato a fare musica prendendo per il culo la trap, facevo delle cose molto marce, però poi è nata l'idea di buttare fuori le cose sulla musica e da lì anche se non c'era un contratto dietro, non c'era niente, non c'erano delle schedule da rispettare o delle interviste, è sempre stato un chiodo fisso. E nulla, ora siamo aggasatissimi e speriamo che vada bene, quindi vi saluto, un bacione!